So che siete una persona intelligente ed è per questo che possiamo trattare. Le guerre costano e gli affari ne risentono e questo vale per tutti. A guerra non conviene a chi ha aperto. E a quanto vale sta guerra sto vingenni? È vero, ma c'è una cosa che sta a cuore a tutti e due, i figli. Rosa mia, Stephen Reap salva la vita napotata. Questo l'è un'ora? Certamente. E getta anche le basi per un punto d'incontro. E quale fosse questo punto d'incontro? Che ci torniamo a spartire le piazze cinquanta e cinquanta e nessuno scasse più cazzo uomita. Pammori Pasha potresti accettare uno sottanta per meno o trenta per voi. Mi sta bene, ma ho una condizione. E ti dice? I figli non si toccano. Rosa mia e Carmine vostro devono dormire suoni tranquilli. Questo te lo prometto. Prima di concludere questo accordo è a fare una cosa per me. Poi la capa è Edoardo Conte. Non mi fido di vogliono che pensino troppo assai. Se non la capa sta diventando pericoloso. Edoardo Conte. Edoardo Conte appartiene a me. E garantisco io che per lui non ci sta bisogno. E chi è stato con me? Che garantisco? Credo che tra tutte le amiche non mi vuole essere amiche. Concludiamo questo accordo o no? Ok. Ok.